Martina, prova a dirmi come ti sei sentita oggi quando la maestra ti ha rimproverato. Prova a scegliere una tra queste carte. Quella è la mia sedia. Oggi dovevo esserci io lì con Mariana ma non potevo. Brava Sofia proviamo ancora a dire insieme la parola diamante. Quella è la mia sedia. Oggi dovevo esserci io lì con Giulia ma non potevo. Davide dove sei? Oggi volevo giocare con Giovanna ma non potevo esserci. Martina, Sofia e Davide oggi non ci sono. Loro hanno bisogno di voi. I loro percorsi si sono bruscamente interrotti a causa della pandemia. Questo è un momento molto particolare, molto difficile, ma noi non vogliamo fermarci. Vogliamo continuare ad affiancare le nostre famiglie. Sostieni quindi la campagna Ginger, gioca, impara, solide e cresci e dona loro un futuro migliore.